altra testa della volpina un po' deteriorata qua la vedo difficile qua la vedo veramente dura poi scendiamo giù di lì è dura molto dobbiamo trovare un passaggio più basso dobbiamo stare giù lì sotto effettivamente dove hai detto te perché di qua non ci passiamo di qui non ci si passa quindi da qua dobbiamo trovare un passaggio che passa fuori lì perché là in alto è troppo no saliamo come hai detto poi scendiamo perché così qua passiamo fuori tutti i rovi che c'è sotto lì